Ho messo ufficiale No, è quello che fa Come si chiama, ragazzi? N.C.S? Qualcuno la sa, ragazzi? Oddio, ho scritto Music for Vlog, deve venire fuori subito, è la prima, tipo Madonna, è vero Eh, io non so come si chiama Preghiamolo una cazzo Che schifo, i poveri! N.F.X. Dumb E' quella, Rick Forse, ok No, l'ho trovato, l'ho trovato, è Forse Oddio, cazzo, c'ho la pubblicità Ah, c'è anche Spectre, è vero, sì Non so se è Forse, spero di sì Aspetta, dobbiamo mandare un premio indietro Tutte e due sono Ok, dipende da quali intendi ma sono tutte e due di Alan Walker E io dico... No, non è questa Allora, calma un attimo Eh Spectre, allora Quella, tara 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 Allora, sì, sì, è Spectre Eh, quante volte te la devo cantare per farti capire che quella Una ce n'è quando guardiamo, i vlogger Tutte e due sono di Alan Walker sono quelli due la rick eccola questa ma 200 milioni di virus ma che cazzo l'ascolta sa che la sua memoria parapa parapa ma quanto è bella sigla adesso parapa 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 vai il progetto youtube una chiesa oddio al suo sguardo ma informazioni in club il mondo ricenderà da noi pensiamo di creare le super uova in grado di poter sfruttare questo enorme cloud non sto assolutamente capendo nulla di qualche rischio tu mi devi dare il posto che mi spetta in un modo o nell'altro il suo trono sarà mio non dovresti comportarti così no io mi comporto così no io mi comporto così è troppo cattivo quello ragazzo io sono qua perché sono stato escluso da sergi allora sergi mi ha detto ogni tanto mi diverto a rintraccendere non sento mi ti voglio sergi mi ha detto che l'episodio 3 è il suo preferito ma il 4 ha detto che è una bomba penso come tutti gli altri episodi in realtà non mi ricordo mi prenderò quello che è mio di diritto il suo trono il suo patrimonio e tutto il suo impero l'ultimo uomo che uccise è per un capo mafia mi colpo la testa e bam e adesso toccano a prendere il suo posto vagano spero per te che sia buono ma tu chi sei? ma tu chi sei? puoi chiamarmi cazzo? sono molto grato al dottor fred 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 nel cuoio mi riavita io sono fred il tempo lo socio di quello che ti ha fatto esplodere mezz'ora fa lui mi ha tradito quindi che te ne fa vedere si ma perchè la musica è così alta non si sente niente? mi facevi sapere che luce mi ha appena fatto esplodere non chiedere a un dio cosa può ma si ma c'è un casino solo di cosa non può sapere ok ok questa scena qua questa è l'unica che ci ricordiamo questa è l'unica che ci ricordiamo non ho più i miei poteri ecco ok ehi Twitch ehi Sergi dimmi il dottor Freud era una trappola adesso è Freud come una trappola? è riuscito a togliermi i poteri e poi ha detto di essere il mio creatore come sarebbe dire creatore? già e ci sia lui dietro a quella pennetta il cacifisso dove è? dietro di lui però ci sono persone molto più potenti di noi che hanno voluto separarci nonostante fossimo fratelli eccolo perciò dov'è il cacifisso? dov'è il cacifisso? dito la testa ah eccolo la il potente di yogurt e di un banana aspetta amore mi sono dimenticato di togliere gli audio vocali qua un attimo ma comunque a quanto pare c'è un Fred e un Freud che sono due persone ah ma quindi Fred e Fred non sono la stessa persona non lo sto capendo ma penso di sì bella matte ma penso che i miei poteri derivano da diverse cose ne hai scritto fammi idea invece i tuoi derivano dalla chiavetta no mi hai mandato un vocale matte poi io un attimo e si va bene va bene oh va bene matte ma non ci sei più tardi tipo più verso tipo stanotte intanto andiamo avanti e come mai abbiamo lottato? perché io come te ero un eroe dopo ho fatto l'enorme errore di mettermi contro il Duce e questo mi ha portato a essere catturato e imbottito di psicofarmaci che mi hanno reso un suo schiavetto eh il Duce eh 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 devo dire che il cuore è stata la mancanza eh eh vabbè se lo dice lui ma in effetti il Duce potrebbe essere il punto chiave per scoprire avere il Duce scusa un attimo perché non ho organizzato nessuna scheletta allora facciamo così matte se ci sei stanotte se ci sei stanotte se ci sei stanotte quando stacco così ti osso va bene matte tanto c'è anche c'è anche il cane lupo facciamo flex sul lol e via cazzo gg tre occhio io e te cane va bene dai a posto matte così facciamo un po' più di ordine così va in live città di fred e come potrebbe aiutarmi una carcassa si fred e fred sono persone diverse io conosco una medium si chiama Dilerium e lei ci aiuterà a contattare il mondo dei morti ah uuuu quindi contattano il Duce e da morto Duce e lui ditemi e come intuito il suo nome diretta ok un cane lupo basta che non c'è un'altra trappola cos'era che cazzo diverso era vabbè a parte le cagate come pensi di fare con i tuoi poteri troverò modo di ottenere i miei poteri conservo ancora quella pennetta usb è ancora qui proprio nel cassetto delle mutande mutande guarda lì quante le mutande non c'è il cazzo non c'è il cazzo dov'è il cazzo però non c'è la cosa più importante e adesso come facciamo? ho un sospettato si chiama Santi è il ragazzo di mia madre ah ah metromo tu madre ragazzo si 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 ragazzo oddio ma immaginativi che faccia come lo sai per favore io sospetto all'orecchio una cosa tali mi scopo tu madre entrerò a far parte della tua vita tu non puoi farci nulla oddio reverse oddio reverse guarda le sopracciglia ahahah 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 sta esplodendo l'altrino lui è un infiltrato di fred e oltre a riprendermi la pennetta usb devo sbarazzarmi di lui dai ma te allora giochiamo dopo quando stacchi te sono stati napoletani per fare la chiavetta ahahah aiuto aiuto perché c'è uno spitter jack sopra la tetta della macchina è vero cosa fa hai sentito? si e ma è tipo l'antenna per tipo di conoscere beh è quello strozzo è lui MEM MEM la pula via ho preso la macchina la pula scappa come farai a seguire l'ho installato sulla sua macchina un intracciatore ah ecco te l'avevo detto lo sapevo mauri nulla era fatto al caso in questo serio e per l'occorrenza ho anche un nuovo super costume oh mio dio ma che cosa sia questa? che cosa sia questa? dovrebbe essere qui vicino ma che cazzo? ma sono tipo gli Sony One Piece sound like One Piece questi eh si no 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 santini che costume oddio 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 mauri il culo no ma è bruttissimo non puoi metterli in mostra oh oh sergi che ci fai qui? eh dovrei dirlo io che ci fai qui mi devi delle spiegazioni non fai il finto cosa brutta da vedere mauri dai ma non puoi metterti come con eh non ho tolenato eh non ho tolenato poteri o meno posso ucciderti ugualmente oddio senti le urla tipo di fianco a scuola che casino sei solo un esperimento fallito oh sono perché un dottore di merda dirmelo non mi tirerò certamente indietro cringe no oh come at me bro oddio lui è la big la qualità dei combattimenti sale a dismisura i bambini che giocano dietro che cosa brutta che si sta vedendo sei proprio come farmi incazzare allora eh eccomi bella rippo ma allora fichi proprio come una femminuccia cosa brutta wow wow oh va piano cazzo dai dimmi dove hai messo la pennetta USB bella grazie mille je aspetta Bawri aspetta perdonami ma ma sul più bello eh così metto la suspense scusa appena arrivato un r sub da tier 3 grazie mille jack davvero dopo avrai tutto quello che ti spetta finito questo avrai tutto quello che ti spetta avrai il tuo premio e avrai anche la possibilità di decidere il prossimo pick da fare su lol capito jack quindi preparati e grazie mille bro del r sub di tier 3 ok stai pronto jack stai pronto intanto continuiamo il video è la madonna che schifo i poveri viaggio oh la pistola no una pistola no un bel Vas è creato veramente per il pacchetto ah ma lui è vi faccio un balle davvero di questa violenza non vedevo aranti volino rosso ah un caricatore Sei proprio disattento Voglio che tu sparisca dalla mia famiglia E se mi ridi alla pennetta La pennetta Mi è proprio sopraffatto Ma il mio lavoro mi insegna a non essere sproveduti Le carte da briscola possono essere molto taglienti Da briscola Da briscola Oh ci sono Mauri Sono pericolosissime Sono quelle dell'Isis E' una torre nato questa E cosa mi cambia Tanto morirei uguale Fred mi ucciderebbe Preferirei morire piuttosto che dartela Anzi Tutte le ragazze le mani Che carino Twisted Fate Ma perché se ne va così? Ma perché E' un po' più quei pantaloni attillati Balotelli E' lui Balotelli's back Balotelli's back Dovrebbe essere questa Le carte da briscola dell'Isis ragazzi Di Diledium Grazie da Fianza e da Donation comunque E' un po' violento st'episodio effettivamente Non si vede Un cazzo Di Diledium E luce sia Eccoci qui Piacere Daniele Questo è un dildo Prego usalo Cos'è? E' roba per l'incenso Ma è roba per l'incenso questo Eh si è incenso Ok Io comunque Vorrei parlare con un morto Aprire un canale spirituale con un defunto Si può fare Ed è difficile No Non particolarmente Ma è distrutto Ma io sono risposto a fare tutto Questo è lo spirito giusto Non so più Delle zanzare Delle nostre paure e insicurezze Il morto con cui devo parlare Non è un morto qualsiasi E' morto da un bel po' In vita si faceva chiamare Il duci Eravamo nemici Ma poi qualcuno gli ha sparato E ora è morto Uno spirito stile dunque Ti dirò tutto Ma devi seguire attentamente Tutte le mie vie Carta da forno figo Ok Prima di tutto Devi procurarti un bene Che in vita apparteneva al defunto Regati esattamente a mezzanotte Nella zona della città antica Una volta dentro Non devi mai girarti E dico mai Se lo dovessi fare Le anime erranti ti rapirebbero Ed entreresti a far parte Di un mondo ultraterreno Meglio detto inferno Ma che cazzo Questo è proprio direttamente da una lezione di mitologia greca Lo spirito verrà da te Attirato dall'oggetto E sarai libero di parlarci Una volta finito Attento di nuovo a non voltarti Ed esci dalla parte opposta Quando sarai uscito Di complicazione Sentirei una sensazione di vuoto interiore E nausea Ma non preoccuparti Questa è la storia di Orfeo e Euridice La cosa più importante Stava scappando Devi assolutamente bruciare l'oggetto del defunto Perché grazie a quello L'anima del morto Sarai in grado di ritornare Nel mondo dei vivi Sotto forma di demone Bella madonna Demone Ma Guarda Mi stai ascoltando Cos'è Sei drogato con l'incenso Sono 15 euro Ah e Minchia Si Pensavo costasse un po' di più Parlare di morti Mauro di 15 euro Li ho lasciati in casa Vado A prenderli Torno subito Ciao Vabbè raga A 15 euro Ho parlato di morte E questa è una scena Della prima stagione Ma ti ricordi Il death note è quello È quello del death note questo Si Ma io Io non ero morto Ricordo che Sergitube Si Sergitube Mi ha ucciso con la mia stessa arma Ah si Ah Boh Ok Quando hai toccato il death note Ti sei elevato dalla semplice umanità Quelle che dicevo Erano soltanto stronzate Per sentire un più figo Di quello che ero No Prima facevo solo che babbaro Sei uno shinigami Shinigami Uno shinigami Riceverai un death note E sarai libero E similare d'errore tra la gente Divertiti col cedro umano Bella casta La drama in death note questa ragazzi Non va bene Esatto Tutto ruo Tutto ruo no Che cos'è maudi Che cos'è dimmelo Stai insgate Ma non ha consenso dirlo in quel momento Cosa va storto Sergi si ritrova davanti a Gigio pronto a stuzzicare La bestia Ma è dentro windows Rick Oddio maudi che cazzo è sta C'è League of Legends C'è League of Legends Disinstallalo Per l'arte tutti i prossimi Disinstallalo L'incontro con Gigio Voglio l'episodio 5 maudi Voglio l'episodio 5 Allora Allora Voglio Aspetta che la cp sta impazzendo Perché è così pesante Cos'è Qual è la scena Che la rende così pesante Ma perché tutto ruo alla fine Voglio la spiegazione di Sergi Dimmi che è in live Eh purtroppo Eh purtroppo non c'è Sergi Perché l'avete fatto dire Ma mi ripeti che cos'è che non ho capito Tutto ruo Eh io non ho capito Tu stai insgate C'è la ragazza L'amica del protagonista Che dice sempre ogni volta che ho l'incontro Come saluto Mi dice di ciao Tutto ruo Non ha alcun senso metterlo qui Tutto ruo Quante sabro ci saranno stasera Non ho idea Sarò sincero La tipa di Steins Gate Eh sono felice che la conosciate tutti Tranne che me Però va bene È un anime Steins Gate Sì 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 Ok Ok Dunque